benvenuto nel canale sports today con le ultime notizie come il giovane esterno d'attacco piace moltissimo all'inter i nerazzurri formuleranno ben presto un'offerta ufficiale c'è anche la juve su di lui tutti i possibili scenari nonostante la sessione di calciomercato invernale si sia appena conclusa l'inter pone già il proprio sguardo verso la prossima estate con marotta e ausilio in particolar modo che hanno già posto la loro attenzione su tutta una serie di papabili candidati l'osservato speciale di quest'oggi è proprio che virali canoplat giovanissimo attaccante che quest'oggi milita tra le file dell'under 17 dell'eintracht francoforte nel campionato b juniors per intenderci trattasi per l'appunto di un esterno destro d'attacco dotato di un gran dribbling e di grandissima rapidità che ne fanno di lui uno dei migliori prospetti futuri veloce scaltro ed efficace ma sapete qual è la cosa che lo rende ancor più inarrestabile il fatto che riesca a segnare caterve di gol nelle giovanili tedesche già 10 reti e 7 assist collezionati in stagione dal giovane talento turco in sole 12 apparizioni complessive con la maglia rossonera numeri davvero impressionanti i suoi e che non a caso noi di interlive it vi avevamo già svelato nello scorso 19 ottobre altro motivo per poter provare a puntare in futuro sul talentuoso classe 0 6 se non altro il fatto che lo stesso campolate in scadenza di contratto col rischio asta che si fa ora come ora sempre più probabile a rimetterci sono proprio i tedeschi dell'eintracht calciomercato inter campolat ha già stregato mezza europa non solo juve ci sono pure celsi e liverpool stando infatti a quanto riferito dal portale tedesco fussbol nescheraiten de nelle ultime ore oltre ad inter milan e juve si sono fatti avanti perché virali campolat anche altri colossi europei come celsi e liverpool e benfica l'intenzione sarebbe per l'appunto quella di provare a garantirsi le prestazioni sportive del calciatore già nel giro della nazionale turca dove ha partecipato anche all'europeo under 17 a parametro 0 entro la prossima estate chiaramente e vero il calciatore ha soli 16 anni ma nonostante questo resta da dover sottolineare ugualmente il fatto che i numeri non mentono mai e se tutte queste big hanno già da tempo incominciato a fare più di un semplice pensierino su di lui un motivo ci sarà le sorprese però non finiscono qui secondo le nostre ulteriori informazioni l'inter medita di proporre un'offerta all'eintracht francoforte per il giovane talento classe 06 tra l'altro in possesso di passaporto tedesco già in questo mese di febbraio attesi ad ogni modo nuovi ed ulteriori aggiornamenti a riguardo su tutta questa vicenda grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace e commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video